Andiamo a stare meglio, andiamo a stare meglio. Io sono convinto di questo, io ho una visione positiva della tecnica, della storia, io sono convinto che se guardiamo la storia l'umano, l'essere umano è andato a migliorare, il genere umano è andato a migliorare. Perché se pensiamo comunque che per secoli a Roma si sono sacrificati i bambini a Giove, o comunque si sono fatti sacrifici umani, ne restano echi anche nelle neide, beh, penso che siamo migliorati. Però andremo a migliorare, andremo a stare meglio, ne sono convinto, tanto meglio, se col nostro libero arbitrio, proairesis in greco, nel greco degli stoici, e poi dei padri della Chiesa dal punto di vista cristiano che riprendono gli stoici, se col nostro libero arbitrio ci diamo da fare. Perché il miglioramento non verrà da solo, ma ha bisogno della nostra libertà. Allora, il primo consiglio di lettura sul tema di The Dark Side of the Social Media è questo libro che ha fatto Epoca di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Ecco, noi dobbiamo comprendere, credo, che queste notizie da cui parte l'intenzione di fare questo video, no, oggi Repubblica apre con New York che addirittura fa causa ai social per i danni sui giovani. È un periodo dove i principali leader e i principali proprietari dei social, le sette sorelle, compaiono davanti a tribunali per rispondere di questi danni, per rispondere, ci sono altre notizie legate a disturbi dell'alimentazione. Insomma, c'è una grande ombra, oramai sappiamo, che generano questi social, che hanno sicuramente impattato in modo anche positivo. Senza i social io non potrei rivolgermi a voi. Io ho raggiunto 210.000 persone io, senza nessuno, in quattro anni, un numero non troppo neanche alto, quindi non è che mi vanti, ma solo per dire la potenza che comunque rimane di questi strumenti, strumenti che però hanno grandi, grandi ombre. E allora, consiglio numero uno, Shoshana Zuboff, il capitalismo della sorveglianza, ci aiuta tanto questo testo a capire che se noi andremo avanti nei prossimi decenni, nel prossimo secolo, in uno scenario dove la tecnica sarà sempre più pervasiva e dove questi strumenti verranno utilizzati in modo sempre più invasivo nella nostra socialità, nella nostra vita, nella nostra relazionalità, pensiamo per esempio alle dating app. Una coppia su tre nasce nelle dating app di questi tempi e stanno avendo un'esplosione enorme. Pensiamo ai social dal punto di vista lavorativo, pensiamo alle nuove figure professionali. Noi andiamo, lo vedremo nei prossimi consigli di lettura, verso un'era della tecnica dove questi strumenti sostanzialmente detteranno l'agenda. Arari, grande storico antropologo analista dei trend, delle dinamiche della società, parla di un tempo non troppo lontano in cui i primi ministri delle democrazie saranno lì a rappresentare gli umani nei governi delle nazioni come oggi c'è la monarchia, quindi in modo totalmente rappresentativo perché le decisioni le prenderanno gli algoritmi. Ma in realtà è già così, perché in realtà comunque la democrazia è sempre più di facciata laddove le vere decisioni le prende la tecnica, le prende la scienza, le prende la tecno-scienza economica, sanitaria e le decisioni derivate dai dati sono oramai irrefutabili e imprescindibili per i governi democratici. Quindi sostanzialmente c'è una transizione enorme verso un grande dominio della tecnica e della scienza sulla nostra società. Ecco, Shoshana Zuboff ci dimostra in questo libro che ha fatto storia molto documentato su proprio come il capitalismo sta utilizzando le tecniche dei social per sfruttare sempre di più le nostre vite e fare sostanzialmente denaro ed incrementare la potenza dei suoi apparati. Questo noi lo sappiamo, sappiamo com'è il capitalismo. Il capitalismo si riempie la bocca di filantropia, di persone, di amore, di valori, di civiltà, ma in realtà non gli defrega un'emerita ceppa di tutto questo. Il capitalismo ci vede come pile da sfruttare, il capitalismo ci vede come risorse umane da prosciugare per il proprio potere e per la propria potenza di un'elite sempre più ristretta. Funziona così. Shoshana Zuboff in questo libro analizza i rischi e in realtà già tanto le realtà di una deriva dove se il capitalismo detterà legge e si imporrà senza che ci sia una sana giurisprudenza, un sano sviluppo politico che gli metta freni, Shoshana Zuboff dimostra i danni enormi da tutti i punti di vista che vedremo realizzarsi nelle nostre vite a tutti i livelli se non ci sarà un freno e un cambio di civiltà che orienterà la transizione nell'era della tecnica. Questo è il punto, questo è il vero punto. Dal punto di vista dell'umanità, dal punto di vista culturale, filosofico, dovremo riuscire a imporre valori umanistici, culturali, umani, che possano guidare ed orientare la tecnica, perché altrimenti entreremo nella tecnica ma con valori nichilisti e capitalisti verremo totalmente mangiati da logiche di profitto che ci spersonalizzano sempre di più. E questo è veramente un grande rischio. Ne vediamo poi gli effetti in tutte le notizie che escono fuori, come quella dell'apertura della prima pagina di Repubblica, che mi ha spinto a fare questo video. Umberto Calimberti è senz'altro, secondo consiglio di lettura, un autore da prendere in considerazione, parlando di tecnica e di rischi di disumanizzazione e di spersonalizzazione. Io vi consiglio questo libro, L'ospite inquietante è il nichilismo e i giovani, dove c'è un'analisi di Calimberti molto profonda sul rischio che questi strumenti possono avere laddove soprattutto i giovani li vivano in modo totale, quando non manteniamo più intimità. Calimberti spiega in questo testo, che è un po' datato, è del 2007, ma le dinamiche le coglie bene, che se noi abbiamo piattaforme, se noi abbiamo una socialità, se noi ci relazioniamo mettendo tutto in pubblico, no, pensiamo agli influencer che fanno entrare nella loro intimità, fanno entrare nella loro vita, fanno vedere le operazioni mediche, condividono con milioni di sconosciuti ed estranei le loro depressioni, i loro effetti rebound sui farmaci, psicofarmaci, cioè cose folli che tra l'altro per chi prende i farmaci non sono positive, perché per esempio condividere un effetto rebound che ti ha dato un farmaco magari non aiuta, uno che cerca di prendere un farmaco si deve magari affidare a paura. Allora Calimberti in questo testo ci dice se noi arriveremo a un punto dove tutto sarà pubblico e non avremo più intimità, a quel punto saremo totalmente nelle mani di questi strumenti, saremo totalmente giocati da queste dinamiche social, saremo totalmente in mano a terzi che sfrutteranno tutti i dati di tutta la nostra intimità per fini economici, per fini di capitale, per fini di incremento della loro potenza, perché dice Calimberti in una frase potente di questo testo laddove tu con un'entità non hai più segreti quell'entità ti ha in pugno e allora noi dobbiamo mantenere un'intimità, dice Calimberti. Calimberti che è uno psichiatra, Calimberti che è un antropologo, Calimberti che è molto di più del Calimberti delle conferenze su YouTube, Calimberti che è uno dei filosofi più prolifici e profondi degli ultimi 50 anni in Italia, ci dice anche la psichiatra attenzione, usiamo questi social, usiamo queste piattaforme con positività, con creatività, troviamo in questo libro Calimberti dice il nostro daimon, il nostro demone unico e irripetibile, seguiamolo, sviluppiamolo anche con i social, però attenzione, perché nel momento in cui questi social avranno in mano tutto di noi, a noi, di noi, non resterà nulla. Questo è il rischio che vede, altro consiglio di lettura, anche il filosofo Byung-Chul Han, che è coreano, naturalizzato però tedesco, insegna in Germania ed è, secondo Marco Guzzi per esempio, uno dei filosofi più rilevanti contemporanei, questo nello sciame visioni del digitale approfondisce proprio questo rischio e fa vedere quanto è pericoloso questo unirsi della deriva neoliberista, che è una modalità economica che diventa sempre più anche politica, di un liberismo spinto alle estreme conseguenze, io non demonizzo nulla e nessuno, neanche il liberismo che ha avuto in dubbie qualità e ci ha dato in dubbie possibilità di sviluppo, però il neoliberismo con un sostrato culturale, filosofico, scientista e nichilista, con queste elite oligarchiche, dice Byung-Chul Han, sempre più potenti, sempre più radicate, sempre più pervasive, anche grazie ai social, anche grazie alla tecnica, possono essere una miscela veramente micidiale che poi, tra l'altro, dice Han, non vanno nemmeno a beneficio dei potenti, è per questo che io sono positivo, è per questo che io ho speranza, perché io credo che questi potenti e queste elite alla fine si rendano conto che se svellono l'umano, lo scarnificano, lo riducono, cioè sostanzialmente, qual è il rischio? Il rischio è che con una cultura ormai del tutto nichilista e scientista noi si segua gli sviluppi più deteriori del comportamentismo in psicologia, del cognitivismo comportamentista più deteriore, perché c'è anche un ottimo e valido comportamentismo che ha dato tanto, però seguendo gli sviluppi più deteriori noi si riduca il sé umano a un algoritmo da decifrare, di dati da incamerare, possedere, detenere ed utilizzare per fini sostanzialmente commerciali, quindi riducendo gli umani a dati vendibili. Ecco, questo sarebbe la fine del sé umano e secondo me anche di un sano capitalismo. Questa è la mia idea, forse sbagliata. Cioè, il capitalismo, che non c'è dubbio, io sono, non voglio dire filo capitalista, però voglio dire che di fronte... Cioè, qual è l'alternativa sana? Anche a un certo complottismo nostrano, no? Io faccio questa domanda. L'alternativa all'America e al liberismo, qual è Putin? Qual è la Cina? La Corea? Quali sono le alternative sane, no? Quindi è evidente che il modello è a rischio veramente di una deriva totalitaria da evitare, ma che rimane il miglior modello in cui vivere. Io posso fare questo video, io posso consigliare Byunchulan, io posso consigliare la Zuboff, io sono libero di esprimere questa opinione su YouTube, che è di Google. Cioè, quindi, comunque c'è un minimo di margine, di libertà, di espressione. E questo è prezioso, e da qui si può costruire una massa critica che lavori per ottenere dei punti precisi di svolta. Tra cui, ecco qui l'altro consiglio, Emanuele Severino, il mio ricordo degli eterni, l'autobiografia del più grande filosofo italiano degli ultimi, forse dell'ultimo secolo, perché Emanuele Severino ha avuto un'influenza enorme nella filosofia mondiale, a me piace molto come figura e anche come autore, ecco, io vi consiglio anche un'intervista, una delle ultime di Severino, ve la linko in descrizione, perché io credo che Severino sia stato il più lucido analista riguardo agli sviluppi del futuro. Severino faceva un discorso che non era pro-tecnica, che non era contro la tecnica, ma, con grande lucidità, ha sempre detto dagli anni 50 fino a quando è morto nel 2020, mi pare, giugno 2020, guardate, more geometrico, si può dimostrare che noi andiamo verso il dominio della tecnica come era umana. E questo non è cambiabile. Questo non è cambiabile. È già in atto, è già avvenuto e sarà sempre più così. Prima c'era, almeno a partire dalla svolta della rivoluzione cognitiva che avviene 70.000 anni prima di Cristo, con i sapiens che hanno questa svolta chiamata rivoluzione cognitiva ed iniziano a pensare per miti e con i linguaggi più complessi e lì si impongono nella catena alimentare e avviano poi le varie svolte che porteranno alla rivoluzione agricola 12.000 a.C. e alle costruzioni delle grandi civiltà piano piano sempre più imperiali. questa era denominabile era religiosa era dei miti era delle religioni è conclusa si è esaurita questo già lo dicevano i romantici si avvia l'era della tecnica. Faccio un esempio molto concreto molto spiccio per capirci per capire che stiamo parlando di noi e delle nostre vite non di cose astratte. Se io oggi me prendo AirCovid nel 2000 facciamo quando il Covid era più potente nel 2021 io mi fossi ammalato di Covid ecco io non sarei mai andato dal Papa o da un profeta io non sarei andato da un uomo di Dio per chiedere cosa vogliono gli dèi da me ma io sarei andato come poi sono andato quando ho preso il Covid nell'aprile scorso dai medici dagli scienziati perché oggi come oggi le tecniche più avanzate non sono più le religioni ma sono le tecniche della scienza che ci danno i risultati più efficaci per sopravvivere. Questo è un processo inarrestabile però Severino non si fermava qui perché Severino era il primo a dire se noi andiamo nella tecnica in braccio alla tecnica in modo acritico in modo del tutto privo di pensiero e di ricerca della verità noi diventeremo sostanzialmente delle teste di legno totalmente controllate. Ci sarà uno scenario davvero apocalittico ci sarà uno scenario dove tutto sarà trasformato in un mercato delle vacche e le vacche saremo noi ma nemmeno le vacche perché la vacca che per gli hindu è sacra è un animale con una grande dignità e veramente lì si realizzerebbe lo scenario di Matrix cioè noi saremmo ridotti a pile da sfruttare e vivremmo un'illusione totalmente etero diretta senza più il libero arbitrio qui sarebbe interessante anche consigliarvi dei libri di Fagin sulla coscienza irriducibile secondo lui e sul libero arbitrio fatemi sapere se vi interessano questi argomenti e nei commenti magari mettetevi se volete un video sul recensione sul libro di Fagin che ne possiamo parlare insieme però ecco Severino dice questo ora la filosofia ora la poesia ora le spiritualità che è molto diverso da dire religione come antico sistema ritualistico cultuale qui le differenziazioni sono molto sottili e meriterebbero ampi saggi di spiegazione però semplificando un conto è la religione come sistema cultuale ritualistico di amministrazione del sacro e quindi delle coscienze degli umani come c'è stata per millenni pensiamo al tempio di Gerusalemme alla chiesa cattolica dei secoli passati e un conto invece sono le spiritualità grandi liberatrici dell'umano queste col cavolo che finiscono oggi dice Severino ma anzi ma dice anche Harari Harari per esempio che vedremo dopo come consiglio di lettura in una recente intervista che vi linko qua sotto dice sapete che io due ore al giorno medito meditazione vi passano a buddista trovate una playlist nel mio canale sulla meditazione buddista anche con riferimenti autobiografici e una volta all'anno me ne vado chiuso in un monastero per due tre giorni di ritiro perché io ho bisogno di spiritualità perché la mia mente deve essere forte quindi Severino Harari ci dicono che ora c'è bisogno di pensiero ora c'è bisogno di spiritualità ora c'è bisogno di una controcultura che critichi il sistema senza scadere nei complottismi vari che sono parte del sistema loro dicono che sono contro il sistema ma in realtà ne costituiscono solo un'ombra parimenti ansiogena parimenti deleteria è parte del sistema l'antisistema che non parta da un contatto più profondo e più radicato con lo spirito inteso proprio come mistero della coscienza come radicamento lucido nella ragione aperta al mistero della coscienza che ci costituisce sto citando Fagin che è un fisico non sto neanche facendo un discorso religioso spirituale ecco per comprendere questo tipo di sviluppo cioè il passaggio dall'era religiosa all'era tecnica e l'importanza che avrà avere una teoria del tutto avere una teoria di senso riuscire quindi a fare politiche a fare leggi che potranno incidere in modo sano e salutare per governare il fenomeno tecnico e non per esserne totalmente indiottiti lo fa capire benissimo Harari con i suoi tre libri che io vi consiglio in blocco vi consiglio in blocco cioè sapiens da animali a dei homo deus e 21 lezioni per il ventunesimo secolo perché io credo che nessuno come Yuval Noah Harari storico antropologo davvero acuto davvero aperto totalmente laico gay quindi proprio totalmente privo di ogni influenza religiosa o di proselitismo però ecco nessuno come lui ci fa vedere questa traiettoria e ci fa intuire i rischi ma anche le potenzialità lui in realtà è molto sui rischi è molto sui rischi cioè ci dice che andiamo verso un addirittura cambio di specie da animali sapiens a dei cioè l'incontro la mistione tra l'elemento homo sapiens e la biotecnologia sviluppata dai sapiens produrrà alla lunga dei cambiamenti proprio totali antropologici e quindi da qui deriva il mio ultimo consiglio bonus che è un pensatore pensate lui era uno schiavo era uno schiavo lavorava per un padrone nell'impero romano scrive a metà del secondo secolo dopo Cristo non vorrei dire una cavolata ma credo sia giusto era molto intelligente era molto curioso quindi comincia ad andare da Musonio Rufo che era uno stoico e comincia a interessarsi di filosofia e Musonio Rufo gli dice certo che puoi venire nella mia scuola anche se sei uno schiavo io mica chiudo le persone per il censo e mica chiudo la porta agli schiavi e quindi lui comincia a studiare a interessarsi a crescere e il padrone diventa invidioso e gli spacca la gamba e nel momento in cui gli spacca la gamba lo vuole ridurre all'agnentamento vedete quanto è connesso quello che sto dicendo col video il padrone ha ragionato come potrebbe ragionare oggi un nichilista riduzionista dicendo un umano vale solo per quello che produce un umano è un algoritmo complesso che posso decifrare piano piano fare mio e sfruttare e se gli rompo la gamba a un umano schiavo dell'impero romano lo identifico perché non potrà più produrre valore e quindi sarà ridotto alla morte ma epiteto da una grande testimonianza di coscienza che cos'è la coscienza quella scintilla divina quella scintilla di zeus dice epiteto in questo libro tutte le opere bompiani che vi consiglio è veramente meraviglioso quella scintilla divina epiteto è un non è un cristiano è uno stoico antico un neostoico rick dufer ha fatto monografie molto valide su epiteto su seneca ma nel suo canale che io sono sono un abbonato a dei ligogito ve lo consiglio veramente tanto è veramente una grande ricchezza trovate monografie su tutti i grandi pensatori laici ma anche cristiani su pascal su agostino su cartesio su kirkegaard su spinosa su heidegger su hegel e veramente con un'ora di live fatta veramente a livello professionale potete avere un'infarinatura generale dell'autore che vi interessa e anche dei consigli di lettura appropriati per approfondire quell'autore nel caso di epiteto c'è una bella live di rick dufer che vi linko in descrizione epiteto grande testimone della coscienza perché nel momento in cui il padrone gli spacca la gamba lui scrive nelle sue diatribe dice in quel momento ho capito che lui era lo schiavo della sua rabbia e io avevo la scelta pro airesis di essere libero e l'ho presa e su quella testimonianza lui ha cominciato a raccontarla ha preso il male e l'ha trasformato in una storia e quando la storia ha cominciato a girare col passaparola epiteto si è trovato un botto di giovani lì che volevano imparare la filosofia da lui perché dicevano noi non ci interessano le chiacchiere noi vogliamo veramente la filosofia che cambia la vita e quindi lui aprì una scuola basata sulla sua testimonianza ero schiavo mi sono liberato e mi sono liberato non perché mi sono affrancato dalla schiavitù come poi farà diventando un grande filosofo mi sono liberato nel momento in cui quello voleva finirmi mi sono liberato nel momento in cui ho capito che dentro di me c'era uno spazio solo mio di scelta e questa scelta poteva essere felicità sempre e questo dice Epiteto facendo tuonare la mia anima ed emozionarla in un modo profondo e prodigioso neanche Zeus nemmeno Dio può togliermelo questa è la grande libertà che ci ha dato Dio dice Epiteto di essere liberi di scegliere la felicità anche da lui nemmeno lui può togliere la proaidesis la scelta di fondo che posso fare verso qualunque cosa anche verso la felicità e quindi poi in questa scuola filosofica andarono due ragazzi che diventeranno nell'impero romano due figure di una certa importanza perché nella scuola di Epiteto ci andrà Adriano nella scuola di Epiteto ci andrà Antonino Pio e dalla scuola di Epiteto sarà influenzato profondamente Marco Aurelio che sarà imperatore come gli altri due ma sarà anche con i suoi pensieri uno dei più grandi filosofi neostoici di tutti i tempi quindi perché vi consiglio Epiteto alla fine di questo video e vi chiedo ripeto di farmi sapere se vi piace questo stile di approfondimento di tematiche di questo tipo ed anche se vi può far piacere parlare di queste cose in relazione anche ai grandi filosofi ai grandi della letteratura ai grandi poeti ai grandi profeti ai grandi testi sacri anche Hindu sapete che sto per andare in India quindi lì mi farò veramente un incontro profondo con la cultura Hindu ma anche buddista ma anche cristiana spiritualità filosofia pensiero noi è lì non so se siete d'accordo mi interessa non è che ve lo chiedo a cazzo ma mi interessa veramente se siate d'accordo con questo che noi dobbiamo tornare alle fonti dei nostri padri dal punto di vista culturale o siamo perduti o non ce la faremo a restare umani questo penso io e quindi io vi propongo Epiteto come bonus track di questo video perché ritengo che lì sia il punto Fagin nei suoi testi vi linko un'intervista con Rick Dufer di Fagin veramente un'intervista coi contro coglioni lo dico proprio sinceramente cioè un'intervista che mi ha fatto volare l'ho vista due volte Fagin ci dice che la coscienza non è hackerabile e ce lo dice da fisico Fagin ci dice che la coscienza è irriducibile Fagin rifacendosi a plotino ci dice che abbiamo il libero arbitrio abbiamo il libero arbitrio e sarà quella come ci diceva Epiteto e ci dice ancora Epiteto la discriminante che farà la differenza mentre andiamo nelle braccia della tecnica io non vedo ve lo dico sinceramente la tecnica come una matrigna che ci disumanizzerà non lo credo io credo che la tecnica ci dia strumenti spettacolari io se voglio posso prendermi libri di tutti i tipi dei più grandi riformatori critici del sistema mi posso prendere Byunchulan Shoshana Zubov mi posso prendere Harari posso andarmi a vedere tutte le loro interviste spendendo zero posso vedere ad Harvard le lezioni degli scienziati fisici che parlano di Dio contro Dio fanno i dibattiti è pazzesca la tecnica e le possibilità che la tecnica ci offre però sarà evolutiva e sana se manterremo quella pro airesis quella scelta di fondo di essere liberi e se sapremo quindi orientare la tecnica nella nostra vita stando attenti a non farci mangiare dalla tecnica e quindi non farci manipolare questo il vero punto non so che ne pensate e ve lo chiedo iscrivetevi al canale se non l'aveste fatto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e tutte grazie a tutti